A volte mi pare di trovarla. Io me lo sento che è ancora viva. Per un anno e mezzo io e mia sorella siamo state sempre insieme. Ti prego però se sai qualcosa devi dirmelo. Tua sorella dovrebbe essere ancora viva. E le carte dicono che adesso è molto vicino a te. E' stranetta questa nuova amica di Rosa, eh? Qui osisce. Che c'è da fare domani sera? La puntata di questa sera sarà indimenticabile. E' convinto che Sandro Oralli è un assassino. Ma che sei matto. Mi piace provocarti. Perché quella veraviglia di tua figlia Rosa reguenta quel coglione comunista? Che fai così? Perché siete tutto quello che ho sempre odiato. Ma siete chi? Voi ricchi. La verità è che io non sono io. Sono un'altra persona. Una persona che non conosco. La gente potente sa proteggersi. Ma scusa, chi è che può aiutarti a capire come sono andate le cose? Non devi scegliere per forza da che parte stare. E questa finta che ci gira intorno. Basta no! Non si può stare fino in fondo.